Signori, viaggio allucinante, tratto da un libro di Isaac Asimov, un film piuttosto lento e piuttosto spalloso, di fantascienza, perché Asimov è stato il più grande scrittore di fantascienza del mondo, ma il film sì, fatto bene, voto 7, però resta troppo lento, cioè del 1966, è una cosa particolare. Sta a voi la scelta.